La trasferta di Marineo domani pomeriggio, quali e quante insidie e difficoltà nasconde? Le solite insidie di una gara di calcio che in questo momento del campionato risulta essere decisiva come saranno le ultime 11. E' chiaro che dobbiamo reagire a questo momento un po' particolare dove nelle ultime partite, forse nell'ultima lascio stare quella di Coppa, la squadra non ha fornito una prestazione all'altezza però non potevo chiedere a questi ragazzi di andare sempre a mille per tutto il campionato. Ci sono momenti della stagione che vanno gestiti in maniera particolare, per noi domani sarà una partita importante, dobbiamo essere indemoniati, dobbiamo essere determinati. Quello che conta di più in questo momento è lo spirito e l'approccio che bisogna avere da queste partite. Sono convinto che poi alla fine i ragazzi domani reagiranno per come ci hanno abituati. Parlando del Marineo, a questo punto del campionato che avversario è? Che squadra è? È un avversario che nel giorno del ritorno ha fatto molto bene, ha perso solo una partita proprio domenica scorsa contro lo Sciacca, ha inanellato dei risultati positivi sin dal cambio dell'allenatore. È una squadra organizzata che ha dei giocatori che possono decidere in qualsiasi momento la partita. Noi siamo là perché se dobbiamo dimostrare di meritare questo campionato di vettice. Sinceramente e personalmente non ho mai guardato la classifica fino adesso, la guarderemo più avanti. Dopo il pareggio in casa con il Casteldaccia, aver perso la vetta della classifica, che tipo di risposta ti aspetti domani dalla squadra? Una risposta che l'Agraccia ci ha abituato in questo campionato dopo Enna, dopo qualche prestazione un po' buia. Però è chiaro che questo è un campionato avvincente, un campionato difficile, lo sapevamo sin dall'inizio, sapevamo che il campionato si poteva decidere nelle ultime giornate della stagione. Quindi siamo consapevoli che è stato un passaggio, il percorso è un percorso a lunga stadenza e noi sappiamo benissimo che bisogna arrivare bene da qua alla fine. Fuori l'under Bonanno per squalifica, chi recupera degli infortunati? Non recupero nessuno, abbiamo perso Semenzinne che accetta ancora il recupero, abbiamo perso Baio, abbiamo perso Gulino, abbiamo perso Flavio Noto, abbiamo perso qualche altro ragazzino, però ti ripeto, questo è un organico che può e deve sopperire a qualsiasi tipo di assenza.